Allora guarda, ultimi giorni di settembre, messaggio per mia sorella Serena, vedi? Sono venuto a mare, sto portando i bambini, ci stiamo divertendo, a voi non lo so, tra un po' andiamo a mangiare, fatti viva, fammi uno squillo quando non ti chiamo io perché cerco sempre di chiamarti non mi chiami, comunque Ruben ha una nuova canzone per Denise, la riconosci no? Sai che da quando sei iscritta in quella scuola che conosci ormai ha bisogno del tappetino rosso più le rose, va bene, allora Ruben fai forza, ponchia 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 ponchia, cosa stai facendo? Sto mangiando, e che cosa? La sagnone, e come sono? Sono buone, le vuoi ancora? Sì, ponchia 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 ponchia, cosa stai facendo? Oh basta, cosa stai facendo? Sto ingassando? Vai 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 a forti il bambino, stai ingassando, ma guardami che si fa il bagno, ti ho salvato te disse, guarda Selena guardami Ruzza come si gode, come si gode il mare, guarda, ma noi giorno qualche tardi ce la dobbiamo mandare veramente a scuola lei, eh che scherzo, ma non esiste proprio, Denise hai qualcosa da dire? No, io sì, riprendimi uno secondo, allora stiamo facendo anche attività sportiva per la signorina Denise, ah sapete, c'ha le gambe più grosse delle mie, le mie sono 52 per poscia, le 53, oee 53 da oggi chieta, chieta, ferrea, passa, ciao Serena